Ciao, sono Luisa del Pizzerio Vesuglio. Non ci perdiamo l'animo anche in questo periodo. Faremo asporto e domicilio, sia a pranzo che a cena, con tutte le nostre specialità e soprattutto con la nostra pizza. Per prenotare potete chiamare al numero 0571 1614 259 o su WhatsApp al 366 930. E come diciamo noi, finché c'è pizza c'è speranza.